Un capodanno abbastanza burrascoso per i carabinieri della stazione di Taurianova che assieme a quelli del nucleo radiomobile hanno arrestato il 24enne Francesco De Masi, taurionovese, con precedenti penali, questa volta fermato per i reati di resistenza e minaccia pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato ed evasione. Nel particolare i carabinieri nel corso di un normale servizio di pattuglia sono intervenuti in ausilio al personale sanitario richiesto dal ragazzo per un malessere nei pressi della sua abitazione dove era già in regime di arresti domiciliari. Il 24enne, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di alcolici, si vede anche dalla foto, alla vista dei militari è scappato nelle campagne circostanti e solo l'intervento di altre pattuglie chiamate per concorrere nelle immediate ricerche ha consentito di rintracciarlo e bloccarlo. Al momento del fermo il taurionovese è andato in escandescenza colpendo ripetutamente con calci e pugni i militari e proferendo parole ingiuriose minacciose nei loro confronti. Il ragazzo è stato bloccato e messo all'interno della vettura di servizio dove ha continuato nella sua condotta violenta colpendo ripetutamente anche lo sportello dell'auto dei militari danneggiandola. De Masi è stato quindi portato in caserma e dopo la formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.